La merce ordinata è pronta da spedire ma ferma, altri ordini sono già in produzione ma non potranno essere consegnati e i pagamenti sono bloccati. Le sanzioni imposte dall'Unione Europea alla Russia sono la prima risposta alla guerra e al tentativo di sottrarre con violenza la sovranità e l'identità dell'Ucraina. Decisioni approvate anche dal Parlamento italiano, che però hanno già provocato ripercussioni sulla nostra economia e sui bilanci delle imprese marchigiane. Ieri la Regione e la Camera di Commercio hanno annunciato l'intenzione di aprire nuovi mercati per le esportazioni e di trovare velocemente risorse, senza escludere la cassa integrazione straordinaria, come supporto concreto per gli imprenditori che hanno puntato sul mercato dell'Est, costruendo anche rapporti consolidati. Ma nell'attesa che le istituzioni mettano in pratica sostegni e strategie, molti imprenditori sono già sull'orlo del baratro per far fronte al drammatico effetto domino. E' il caso di Massimiliano Magrini, titolare di Partner Logistics, un'azienda con seda Fano e magazzini a Rimini, che si occupa di logistica proprio per il mercato russo. Grazie alle sanzioni che l'Europa sta mettendo contro la Russia, noi ci siamo ritrovati in mezzo ad una strada, letteralmente, perché tutti i nostri clienti non riescono a pagarci. Le ditte con le quali collaboriamo, noi colliamo un rabo molto, con una ditta austria, che in Austria hanno letteralmente bloccato i conti alle ditte che lavorano con la Russia, quindi noi ci siamo ritrovati nel giro di tre giorni a non poter più incassare niente, perché i clienti non riescono a pagarci. Le ditte con le quali collaboravamo non ci pagano perché non ricevono i soldi dai clienti e quindi noi che lavoriamo esclusivamente per la Russia siamo in mezzo alla strada. Io ieri avevo la rata del mutuo di casa da pagare, non l'ho potuta pagare perché non riesce a pagarmi nessuno. Le conseguenze economiche delle sanzioni si sommano ad una situazione già fortemente precaria, indebolita prima dalla pandemia e poi dal caro bollette e dall'aumento delle materie prime. Un continuo salasso che potrebbe portare alla moria di tante aziende. Servono dunque azioni immediate ed efficaci per evitare che in tanti si vedano costretti a chiudere i battenti. Spero che i nostri politici riescano a trovare una soluzione perché piuttosto che mettere queste sanzioni che fanno del male solamente a noi, perché fra un po' saremo noi a dover andare alla Caritas a mangiare, chiudono questo famoso rubinetto del gas per il quale noi paghiamo ogni giorno 600 milioni di dollari, cifra che un bambino non riesce a scrivere alla Russia e ci facciano vivere, magari senza acqua calda, però che ci facciano vivere. Io ho visto ieri un'intervista al presidente della Georgia, dopo che tutto il popolo gli ha chiesto a gran voce di mettere le sanzioni contro la Russia, lui gli ha detto io sono il presidente vostro, faccio gli interessi della nazione, se io metto le sanzioni contro la Russia, voi che esportate solamente in Russia, non vendrete più il vino in Russia, i russi non verranno più qui come turisti, si fermerebbe l'economia nazionale, quindi ha detto io devo fare gli interessi della nazione, non i miei e non li ha messi, e devo dire che pensandoci il giorno dopo è quello che ha fatto meglio di tutti. Avete pensato a delle alternative, delle azioni da mettere in campo urgentemente per risolvere la situazione? No, non sappiamo, non riusciamo a capacitarci al momento e nessuno ha una soluzione, perché le sanzioni continuano ad aumentare, tipo adesso hanno chiuso le strade agli autotrasportatori russi, e il problema è che ci saranno le contorsanzioni, perché io non penso che Putin stia lì a guardare e a ricevere queste sanzioni che alla fine non gli fanno niente al momento e non fare delle contorsanzioni, prima o poi arriveranno queste contorsanzioni e a quel punto saremo proprio in ginocchio fino alla fine. Grazie a tutti.